Salve e bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, oggi è una giornata davvero particolare per Siracusa e non soltanto per i fedeli, infatti ieri la processione, la festa in brugata per la patrona della città Santa Lucia, oggi invece è il grande evento storico perché ritornano a Siracusa le spoglie della Santa Patrona. Momenti di preghiera già con l'arrivo all'aeroporto di Catania del corpo della Santa Patrona di Siracusa, spoglie poi trasportate in auto verso la città con l'arrivo alle 15.30 nel piazzale della chiesa del Pantone. Il tragitto del corpo della Santa Patrona è ben delineato, dopo l'arrivo il corteo si muove per il Corso Gelona per fare tappa all'ospedale di Siracusa. Durante il tragitto le sacre spoglie di Lucia vengono portate in spalla dai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, dai vigili del fuoco, dalla comunità di Carlentini e di Belpasso. Altra tappa è il santuario dove c'è l'ideale incontro tra la Madonna e Lucia, ultima tappa di questa domenica alla Basilica di Santa Lucia alla Borgata, dove il corpo, come dieci anni fa, viene riposto sull'altare maggiore ai piedi del simulacro della Santa. Sappiamo che c'è una grande attesa già da giorni tra i siracusani, ha detto Pucci Piccione, più del 2004. Abbiamo già la penenotazione da parte di 18.000 studenti durante la settimana e impieghiamo così centinaia di volontari per organizzare servizi di sicurezza e di accoglienza dei fedeli provenienti da ogni dove. Andiamo avanti adesso e parliamo invece dello sciopero di qualche giorno fa, lo sciopero generale voluto dalla CGL, dalla UGL contro le politiche economiche, ma non soltanto, soprattutto il lavoro del governo Renzi, ma anche la scuola ha avuto e ha i suoi problemi. Altra categoria che oggi protesta è il mondo della scuola. Contratti non rinnovati? Certo, bisogna capire se le 80 euro promesse a Renzi al 50% degli operatori della scuola erano una promessa elettorale per pochi che evidentemente gli hanno dato il credito, oppure se era un'operazione che rivalutava il lavoro del personale docente, deve essere estesa a tutti e il momento adatto è questo. Qual è il passo necessario? Mettere le risorse necessarie nella legge di stabilità. In questo momento sono impegnati un miliardo di euro per tutto il mondo dell'istruzione e con questo miliardo di euro è intenzione del governo coprire le spese destinate all'edilizia scolastica, al reclutamento delle 150.000 vertenze che l'Europa impone, all'aggiornamento dall'inizio alla fine di tutto il sistema di autovalutazione degli invalsi e chi più ne ha più ne metta, è soltanto un miliardo. Cambiamo argomento, parliamo del sistema agrumicolo e le sue possibilità di sviluppo nel territorio di Lantini. Il dottor Carmelo Tarandino, responsabile regionale della Col di Reteco, un'agrumicoltura da rilanciare? Un'agrumicoltura da rilanciare che rientra in pieno nella nuova programmazione della PAC, quindi della nuova politica agricola comunitaria, che ci vede assegnati, quindi del settore agricolo in generale, quindi anche del settore agrumicolo, di ben 52 miliardi di euro, che rappresentano quasi il 40% del bilancio europeo, quindi questo grosso percentuale va al settore agricoltura, dove rientra anche l'agrumicoltura. Sinteticamente la nuova PAC è data da un pacchetto di premi, e il primo premio a cui l'agrumicoltore può partecipare è il famoso pagamento base. Questo pagamento base nasce dal pagato, quindi dai contributi percepiti nel 2014, diviso la superficie ammissibile nel 2015 per un coefficiente che è il 58%. A questo pagamento base aggiungiamo il greening, che è un famoso pagamento ecologico, dove il settore agrumicolo ha l'esenzione, e quindi soprattutto riguarda questo greening, il rispetto a questo greening, le colture al seminativo. Il terzo pagamento riguarda, in questo caso, anche il settore agrumicolo, se siamo di fronte a dei giovani, questi si vedono aumentati, il famoso titolo, quindi chiamiamolo organamente quota, del 25% o più. Il quarto premio riguarda l'accoppiato, che riguarda il settore seminativo, olivicolo, e zootecnico. Il quinto premio riguarda il regime dei piccoli agricoltori, dove lì c'è poco da dire, sono soggetti che arrivano fino a 1250 euro come importo. Ecco, questo significa anche che tanti agrumedi abbandonati possono essere recuperati, e quindi anche si può procedere ad una riconversione del prodotto. Sì, tanti possono partecipare, anche perché questi pagamenti che ho precedentemente detto, che riguardano il primo pilastro, quindi la domanda unica ai vari OCM, l'organizzazione comunale di mercato, e il secondo pilastro riguarda il PSR, quindi il piano di sviluppo rurale, dove il settore agrumicolo può partecipare con tutti gli investimenti aziendali, che oggi la percentuale di investimento può salire anche al 70%, quindi investimenti aziendali in genere che il settore agrumicolo può sfruttare. Argomento durissimo, argomento sempre purtroppo attuale, quello della violenza di genere contro le donne, con le ricadute che tutto ciò può avere anche sui minori. C'è stato un convegno all'ordine degli avvocati di Siracusa. Hai definito il fenomeno della violenza nelle mura domestiche un delitto annunciato, insomma dei reati annunciati, perché? Perché purtroppo secondo le leggi che abbiamo in questo momento nel nostro paese possono intercorrere fino a tre mesi di tempo prima di procedere con l'allontanamento del soggetto violento. Cosa significa questo? Significa che nell'arco di quei tre mesi una donna che abbia anche esporto più di una denuncia è a rischio di essere assassinata e allora noi interveniamo con l'immediato rifugio per salvarla, letteralmente salvarla dal femminicidio, appunto il delitto annunciato. Le strutture, si parlava appunto di case rifugio, ma ne siamo davvero in possesso a sufficienza o no? Allora noi ci abbaliamo di cinque case rifugio nel territorio regionale che sono state, prima sono passate al vaglio, al nostro vaglio, di grande esigenza, perché ci prendiamo comunque una responsabilità ovviamente nel momento in cui collochiamo una donna con i bambini in una casa rifugio vogliamo essere sicure che intanto che faccia un percorso di recupero con delle specialiste preparate e inoltre che per l'appunto sia soprattutto anche inserita lavorativamente in maniera da non essere più costretta a tornare in questa città che naturalmente la donna detesta perché è il luogo dove ha sofferto tanto, ha pianto tanto e ha rischiato pure di essere assassinata. Ora vorrei dire una cosa, intanto non tutti sanno che in Italia che l'Italia purtroppo detiene il primato dei femminicidi in Europa è ancora più doloroso per noi siciliani apprendere che Siracusa ha il primato dei femminicidi, un primato relativo ma comunque dei femminicidi in Sicilia e ci stiamo occupando adesso dei minori perché anche questa è una cosa che non tutti sanno quasi 2.000 bambini in questo momento sono stati segnati dal trauma più atroce che possa subire un bambino quello di vedere la mamma uccisa dal papà e quindi sono degli orfani degli orfani dei quali non ci si occupa abbastanza Ci fermiamo, la pubblicità a qualche minuto vi aspettiamo per la seconda parte Plastic Home Shop per questo Natale vi presenta una vasta gamma di soluzioni di macchine confezionatrici e migliaia di articoli per ogni esigenza di imballaggio e confezionamento tutto per bar, pasticceria, panifici, ristorante e pizzerie e negozi in genere packaging monouso sia in carta che in plastica novità Shoppers Bio e ampia gamma di prodotti ecosostenibili della linea Tussi Bio il tutto in pronta consegna presso il Cash & Carry di Città Giardino Plastic Home Shop in via Garrone 5 a Città Giardino aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13 unico in Sicilia da 20 anni sempre presenti Entra nel mondo Gemar Questa settimana in offerta riso classico, flora, 1 kg, 1,65 euro bastoncini Fimbus per 6, 150 grammi, 0,99 pannolini Pampers Baby Dry, 4,99 euro ammorbidente coccolino 750 ml, 1,29 euro detersivo Nels & Piatti, 1 litro per 3, 3,27 euro cerca il punto vendita più vicino a te supermercati Gemar Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio Bella, vero? E poi è bella anche dentro Ha stile E guarda che cromature Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris Ti sei innamorato di un'auto Ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris Geniale come sempre Trendi come non mai Oggi è tua da 10.250 euro Autosport, concessionaria Toyota Contrada Tarja, Siracusa Autosport e anche Opel Una residenza sanitaria assistenziale nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante Assistenza sanitaria diurna e notturna Servizio alberghiero Assistenza sanitaria medica e infermieristica Attività riabilitative ricreative e culturali Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale Due strutture specializzate per il tuo recupero RSA Scala Greca Via Scala Greca 406-A Siracusa RSA Anni d'Oro Contrada Spalla Città Giardino Melilli Info 0931 75 65 06 O 76 17 38 L'assistenza che cercavi Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta Oggi da Scavolini Store Siracusa Ti aspettiamo con un'imperdibile offerta Acquista la tua cucina Scavolini Poi ti regaliamo un frigorifero Samsung E la paghi in 20 rate A interessi ZEC Scavolini Store Siracusa Via Scala Greca 381 Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te E non solo Questo mete in offerta Termoventilatore ceramico 29,90 Box doccia angolare 134,90 Trapano a battente Bosch 59,90 Banco da lavoro pieghevole 79,90 Motosega leggera 149,90 Armadio alto tutto ripiani 99,90 Brico Center Melilli Contrada Spalla Città Giardino presso il parco commerciale Belvedere Bentrovati in seconda parte del nostro telegiornale Parliamo del città di Siracusa Ieri una giornata di campionato Intanto a Masca Lucia Il città di Siracusa ha incontrato il San Pio X Vediamo Il Siracusa espugna Masca Lucia E conquista il titolo di campione d'inverno Mister Anastasi Si manda inizialmente in panchina all'acciaccato Arena Vitale si posiziona fra i pali Con Listro, Orefice, Pettinato e Santa Maria in difesa Con Mascara da gire da play basso Conti e Palermo in mediana Con Figliera e D'Agosta alle spalle di Contino Nella San Pio mancano per squalifica Santonocito e Vadalà Gioca dall'inizio l'ex Nuccio Garufi Inizio straripante degli azzurri Che travolgono la San Pio Al secondo preludio al gol con D'Agosta Che viene stoppato dal portiere romano Quindi inizia il continuo show Al decimo l'attaccante Grigentino Servito splendidamente da Mascara Scarica di destro un diagonale imprendibile Per il portiere di casa Un minuto dopo Ancora continuo fa il bis Stavolta di sinistro su assist di D'Agosta Bravo a recuperare un pallone Alla difesa di casa Sempre continuo al venticinquesimo Non ci arriva per poco di testa Al trentunesimo Destro secco del bomber azzurro Di prima intenzione Respinto a pugni chiusi da Romano San Pio inesistente in tutto il primo tempo Ma la gara si riapre Con la punizione vincente di Caruso Al quarantesimo Nell'unico tiro in porta dei locali Si va al riposo sul 2-1 per gli azzurri Nella ripresa Anastasi inserisce all'undicesimo Grasso per D'Agosta E subito Fichiera fa tris Con un perfetto pallonetto Sull'uscita del portiere Lo stesso Fichiera Al diciassettesimo Serve un pallone d'oro a continuo Che spara alto Un minuto dopo si fa vedere La San Pio con Ranno Gran parata di Vitale Al ventitresimo Percussione di Grasso Pallonetto che supera il portiere Ma Pistorino salva quasi sulla linea Al ventisettesimo Rigore per i locali Per fallo di mano di Orefice Che viene ammonito E salterà il big match Di domenica prossima a Scordia Ma dal dischetto Ranno calcia fuori Entra subito strano per Contino E al trentaduesimo Conti con un gioco di prestigio Serve un ottimo pallone per Fichiera Che scarica al lato Al trenticinquesimo Ancora Conti dalla distanza Doppio palo Ma al quarantunesimo Caruso con un tiro da fuori Colpisce al volto pettinato E sul prosieguo dell'azione Ranno mette dentro il pallone Del 2-3 Al quarantaquattresimo Fuori Mascara per Arena E quindi nessun rischio Nei cinque minuti di recupero finale Siracusa Campione d'inverno Domenica prossima Partitissima A Scordia Abbiamo raccolto Abbiamo raccolto La disamina della partita Del tecnico del Siracusa Anastasi Mister Secondo noi grande Grandissimo Siracusa Però sempre La sofferenza C'è sempre Fino alla fine Guarda io sono d'accordo Per quello che mi stai dicendo tu La sofferenza c'è ma Noi ce la cantiamo E noi ce la suoniamo E questo Onestamente parlando Non mi sta bene Non mi sta bene Perché dopo che tu hai dominato Senza esagerare Abbiamo avuto fuori casa La media di 7-8 palle goal Dove non hai rischiato niente Perché la difesa Ha fatto una gran Una gran partita Ma due disattenzioni Ti mettono sì Che la partita si apra E qualcuno mi dice L'ultimo potevamo pareggiare Sì L'ultimo potevamo pareggiare Ma se ne faccio a 10 gol La parte è finita il primo tempo Quindi voglio dire Abbiamo fatto una grande partita E ci prendiamo i tre punti Su un campo importante Difficile Dove se non erro Il Milazzo ha perso Il Milazzo ha perso Quindi Quindi voglio dire Penso che è stata una partita Dove l'abbiamo Effettivamente L'abbiamo dominata L'abbiamo dominata Su tutti i punti di vista Sull'aggressività Sul possesso palla Sulla cattiveria agonistica Però Dobbiamo cercare di migliorare Per essere veramente Una grande squadra Di non abbassare la guardia Nel momento in cui ti accorgi Che magari sei un po' più superiore Rispetto all'avversario Ci vuole un po' di rispetto Secondo me In più Rispetto agli avversari Forse l'unica pecca È stata non chiudere la partita Ripeto Ma a parte Non chiudere la partita Ma tu Effettivamente Sul 3-1 A parte il rigore Poi lo rivediamo Vediamo se era il rigore Ma a prescindere questo qua Secondo me Venire qua a Mascaruccia Fare un gran risultato È un peccato Che te ne andavi qua Con un risultato Sì positivo Ma che non erano i tre punti Questo non deve accadere Per una grande squadra Non deve accadere Sono felice Per quello che hanno fatto i ragazzi Sono meno contento Perché Poteva essere sia più ampio Il risultato E subire due azioni Che secondo me Voglio dire Erano da Poter gestare In una maniera diversa Mister Oggi i complimenti vanno Anche e soprattutto a lei Abbiamo visto un bel Siracusa Camaleontico Che ha saputo trasformarsi Sempre Con moduli diversi Durante la partita Questo E merito anche Dei nuovi arrivi Perché sono già integrati Perfettamente Oggi abbiamo visto Un grandissimo conti Ma guarda Io Io vi ringrazio Per i complimenti Che mi fate Però E non deve essere Una retorica O una frase già fatta Io merito Lo do solamente ai ragazzi Perché Abituarsi In fase di gioco A moduli diversi O cambiare Un giocatore Con un Con un modo di giocare Diverso da quello Che sono le tue caratteristiche Questo qua Il merito È solamente del giocatore Sicuramente Sicuramente Siamo una squadra Siamo una squadra dove Sicuramente abbiamo Un obiettivo importante Che è quello di arrivare Fino all'ultimo A giocarci questo campionato Con altre 3-4 squadre Quindi Per me è importante Avere dei giocatori Seri Dei giocatori dove Fino ad ora Mi hanno dato parecchio E dove i nuovi Mi devono dare Tanto quanto Quelli che già ci sono Microfoni aperti A termine partita Anche per il tecnico Del Sampio Decimo Carlo Platena Mister Platania Innanzitutto Abbiamo assistito A una bellissima partita Sicuramente Una partita Giocata A viso aperto Entrambi le squadre Hanno provato A vincerla Anche la partita Sicuramente Anche se per noi Purtroppo È iniziata In salita Molto ripida Perché abbiamo preso Due gol in un minuto e mezzo Per errori nostri Perché Due palloni Che potevano essere Intercettati facilmente Purtroppo Non siamo stati svegli Diciamo un approccio Nervoso della mia squadra Senza motivo Perché noi Assili di classifica Non ne abbiamo Peccato Perché poi Alla fine La squadra Si è espressa Ha giocato Ha messo pressione Ha messo grinta L'inizio è stato Un po' Sicuramente Non dei migliori E questa è la seconda volta Che ci capita In uno scontro importante È successo anche col Vittoria Quindi Dobbiamo lavorare Più sulla calma E la tranquillità Che non su altro Perché poi comunque Credo che abbiamo Giocato una buona gara Sicuramente E siete stati in partita Praticamente fino alla fine Anche il rigore è sbagliato Eh sì Siamo stati in partita Anche Abbiamo iniziato il secondo tempo Molto ma molto bene Stavamo 2-1 Abbiamo cambiato qualcosa Nella disposizione tattica Ci siamo messi con un centrocampo A rombo Cercando di intercettare Le loro La loro Lilia mediana E diciamo Stavamo andando molto bene Purtroppo Una ripartenza immediata Ci ha Messo di nuovo sotto Di due gol Ma la squadra Ha continuato a giocare E ha costruito Fino a trovare anche il rigore Su una bella azione Tra parentesi Che sono delle giocate nostre Che proviamo spesso Con il cross dal fondocampo E lì Purtroppo La palla è andata fuori Peccato Perché magari Riaprirla prima Diciamo Accorciarla prima Perché credo che la partita Anche sul 3-1 È rimasta sempre aperta Accorciarla prima Poteva dare Qualche chance in più Poi quando l'abbiamo accorciata Purtroppo Ranno Si è fatto anche male Ed è rimasta in campo Diciamo Ma non si poteva muovere In maniera stoica Cercando di dare Quello che poteva Ma purtroppo E poi c'era anche Molto poco tempo Per accorciare la partita Mister È finito il girone d'andata Quali sono le squadre Secondo lei Che alla fine Giocheranno Per la vittoria finale Di questo campionato Sicuramente Siracusa e lo Scordia Sono le due squadre Più forti Che secondo me Sulla carta Hanno anche rafforzato bene Le loro rosa C'è il Milazzo Che è da tenere Ovviamente In debita considerazione E poi Ci sono tante outsider Che possono dire La loro Anche perché Tutte le partite Saranno dure da giocare Lo dimostra anche La partita di oggi Che il Siracusa Ha vinto meritatamente Ma ha dovuto sudarsi Per portare in porto il risultato Bene con questo è tutto Il Te Giornale Qui si conclude Vi auguriamo un buon Proseguimento di programma Grazie a tutti Grazie a tutti.